623.128 per l'Italia, per l'Italia, per l'Italia. Bisogna lavorare bene, ma il tempo comunque ci vuole. Faccio sempre il mio di esempio. La mia prima Coppa l'ho fatta da senior, l'ho vinta e da lì sono andato avanti. Giuseppe D'Alofolo. Sono Giuseppe D'Alofrio e sono qui a Campus Masterclass e seguo questi ragazzi veramente volenterosi. Invece voi dovete curare sempre di più i particolari, nel senso che il cavallo anche nel cambio di galoppo deve rimanere regolare e nella direzione, non deve darti la beccata. Qui a Campus Masterclass gli dai veramente l'opportunità di mettersi a confronto con dei grandi professionisti. Come devono essere gestite le cose, come deve essere gestito il cavallo. Certo che poi tornano e ritornano nella propria realtà, però comunque hanno avuto un'idea di come dovrebbe essere tutto. Metti le gambe, mandalo avanti un po' nello spazio vuoto. Perché siamo partiti, anche se non conoscendo i ragazzi, siamo partiti da un percorso adeguato alle altezze che normalmente affrontano, anche un pochettino più basso per renderci subito conto di quelle che fossero le difficoltà o la preparazione dei ragazzi. Il secondo giorno abbiamo fatto un lavoro un po' più mirato, siamo andati a lavorare sulle varie difficoltà di ogni ragazzo. Il concorso, io praticamente a tutti gli effetti sono il loro istruttore, quindi la gestione, l'ordine partenza del lavoro in piano, dei salti in campo prova, il vedere il campo, gestire quanti cavalli, arrivare prima, che tipo di lavoro fare nel campo prova, me ne occupo totalmente. Nelle gare i ragazzi hanno lavorato, devo dire, tutti abbastanza bene. Alla fine è importante guardare, secondo me, sempre il bicchiere mezzo pieno, ma guardarti indietro e capire quello che realmente hai fatto. A volte pensi di aver fatto male, ma la mente è fredda, così ti accorgi che hai fatto diverse cose fatte bene, poi qualcosa è mancato, ok, però allora riparti, dico questo bene, però devo fare ancora meglio. Come la danno sempre la soddisfazione, veramente, veramente, sono dei ragazzi che arrivano, si impegnano, ce la mettono tutta, quindi sono felicissimi di essere qui. Sicuramente ho ottenuto dei buoni risultati nella mia carriera, è passato del tempo, mi piacerebbe ancora avere dei cavalli all'altezza per fare uno sport ad alto livello. Adesso hai più esperienza, hai acquisito molte più cose, quindi mi piacerebbe ancora mettermi a confronto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.